Maria Lucia Revisore Revisore Accade un fatto, improvvisamente nel 2017 il New York Times pubblica questo articolo. Sulle tracce del programma segreto del Pentagono per la ricerca sugli UFO. Non solo ciò che accade, il Ministero della Difesa e il Pentagono chiama il New York Times, faccio per modo di dire perché il New York Times è l'organo non ufficiale ovviamente ma di fatto è la longa manus del Pentagono, e gli dice pubblicate abbiamo materiale sugli UFO, filmato dai nostri piloti militari della Marina con telecamere sofisticate militari all'infrarosso, questi sono due screenshot dello stesso avvistamento, e abbiamo le testimonianze dei piloti. io ho fatto un salto sulla sedia, ma come? 70 anni di negazione, di manipolazione, addirittura di gente che è stata rovinata o persino uccisa, ma di colpo di sua iniziativa il Pentagono pubblica che è esistita una commissione segreta di studio sugli UFO e addirittura pubblicano materiale militare e autorizzano i piloti che hanno avuto le esperienze a parlare ai media. considerate che c'era una legge che si chiamava Janap che cosa come numero, che puniva i militari col carcere e multe salatissime se avessero parlato ai media di esperienze loro dirette con i dischi volanti o addirittura con gli extraterrestri. io ne ho conosciuto negli Stati Uniti alcuni di questi piloti. dice ma che cavolo sta succedendo? mi insospettisce il titolo Advanced Aerospace Threat Identification Program cioè programma di identificazione delle minacce aerospaziali avanzate. Allora, la pressione a livello militare di questa aviazione è enormemente cresciuta soprattutto quando sono iniziate le guerre in Medio Oriente. addirittura 100 dischi volanti hanno scortato una portiere, la Nimitz nucleare che è dagli Stati Uniti è andata in Medio Oriente. vi ricordate che Barack Obama doveva attaccare di giovedì e poi non ha fatto più nulla? quindi chi ha convinto gli americani a non attaccare la Siria e a lasciare il succulento boccone siriano nelle mani di Putin? sono stati questi personaggi infatti Putin ha fatto a pezzi l'Isis che era stata creata dagli Stati Uniti d'America col Qatar e l'Arabia Saudita poi c'è Israele di Medio, insomma tutta una manica vi ricordate le code di Toyota con le mitragliatrici con tutti quei mascheroni neri che poi erano mercenari provenienti dall'Italia, dall'Inghilterra da varie parti del mondo Putin li ha fatti a pezzi e l'America non ha reagito perché non ha reagito? perché qualcuno gli ha detto no questo processo iniziato nel dicembre del 2017 è giunto a buon fine nel dicembre dell'anno scorso 2021 quando Rinban Biden no poveri a parte che questo signore c'ha alle mani l'orde di sangue perché ne ha combinate di ogni lui fu uno di quelli che convinse lo stato maggiore americano a bombardare la Jugoslavia ma lui non è solo un fantoccio del vero potere che sta dietro di lui il vero potere non lo conosce nessuno perché se il tuo nemico è sconosciuto non lo puoi combattere ci fanno vedere burattini Matteo Renzi, Biden, Draghi ma quelli non contano niente sono solo utili esecutori utili idioti li chiamo io perché Mario Draghi era una personalità carismatica fino a che non ha parlato era lì BCE Goldman Sachs sembrava un genio poi nella politica si è espresso ciao Alberto ciao Chiara si è espresso ma questo è Draghi era meglio Grisù sono personaggi assetati di carrierismo infatti se ne è andato perché probabilmente lo metteranno al posto di quell'altro omen in omen Stoltenberg uno che è a capo della Nato e si chiama Stoltenberg è molto preoccupante come uno tra l'altro che viene dal mondo dell'alta finanza a fare il capo di governo senza essere eletto dal popolo che si chiama Draghi quindi quindi Biden il 27 dicembre 2021 firma una legge incredibile che regolamenta l'organizzazione della NASA dei servizi segreti del Pentagono e di alcune altre commissioni civili nella gestione del tema extraterrestre dice ma come ma fino a ieri non esistevano adesso fate una legge io ho tradotto ho fatto tradurre tutto il corpo della legge c'è tutto come gestire i corpi recuperati le astronave recuperate come gestire il personale che magari va di testa quando impatta con questa realtà perché ovviamente tanti militari ad esempio c'è un ex ministro della difesa americano che adesso mi sfugge il nome che l'hanno suicidato perché quando lui ha impattato con la realtà extraterrestre è andato in palla un altro grande personaggio fu il generale MacArthur perché MacArthur voleva vincere il grande eroe della seconda guerra mondiale voleva vincere la guerra di Corea bombardando con testate atomiche la Corea gli extraterrestri gliel'hanno impedito così come gliel'hanno impedito in Vietnam per questo hanno perso la guerra gli americani e gliel'hanno impedito gli extraterrestri quindi quando MacArthur ha detto ma insomma ma questi qui non ci fanno fare le cose che noi vorremmo fare quindi a che serve tenere un esercito se c'è un esercito molto più potente che non possiamo sconfiggere e che ci cassa quando noi vogliamo fare determinate azioni e ci fa perdere le guerre ecco questo concetto ha devastato lo stato maggiore MacArthur l'hanno fatto tra virgolette diventare un matto e invece doveva correre per diventare presidente degli Stati Uniti così come accadde ad Eisenhower a vedere l'ho